Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Alcuni di voi seguono i video ma non sono iscritti. Quindi stoppate il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. In questo video parliamo del Ferrari Tor 85, un modello basso di trattore molto affascinante. Equipaggiata con motore da 75 curriculum di potenza la gamma Tor 85 è nata per essere competitiva nel mercato dei trattori isodiametrici di alta gamma grazie ad un allestimento essenziale, ma con ampia scelta di optional per configurare il trattore in base alle specifiche esigenze. I Tor 85 sono disponibili in due versioni. AR telaio con articolazione centrale, carreggiata stretta e raggi di volta contenuti. RS telaio con ruote sterzanti, stabilità e aderenza per impiedi anche in zone declive. La gamma 85 è equipaggiata con motore 4 cilindri turbo intercooler da 75 curriculum di potenza con filtro del particolato sul quale il gruppo BCS ha lavorato, in collaborazione con il partner tecnologico Kohler, per una strategia di rigenerazione avanzata a garanzia delle massime performance e riduzione al minimo dei fermi macchina. La regolazione elettronica dei giri motore avviene in modo rapido e preciso attraverso una console posizionata alla destra del volante con funzioni di aumento barra decremento velocità, memorizzazione barra richiamo della velocità impostata, spegnimento dell'acceleratore elettronico e passaggio al regime minimo. In seguito elenchiamo tutti gli optional che è possibile aggiungere a questo mezzo. Più motore Kohler 4 cilindri turbo intercooler da 75 curriculum e capacità del serbatoio carburante aumentata a 58 litri, più posto di guida reversibile, opt per la massima versatilità, comfort e precisione nelle lavorazioni. Più capacità di sollevamento di 2300 kg alle rotule. La postazione di guida è realizzata su misura per il conducente con tutti i comandi posti in maniera ergonomica e facilmente azionabili. Dal sedile l'operatore gode di una visuale completa e senza ostacoli sia sull'attrezzo che sulla macchina. La visibilità sull'avantreno, sulla carreggiata e sull'ambiente circostante è stata ottimizzata dalla compattezza del nuovo cofano motore più basso di 8 cm rispetto al modello precedente. Sedile ammortizzato e regolabile in funzione del peso dell'operatore e volante registrabile in altezza, OFF, consentono di configurare la postazione di lavoro per il massimo comfort operativo. Lo sterzo con guida idrostatica garantisce la massima manovrabilità e contenuti raggi di volta per operare al meglio anche in spazi angusti. Un moderno cruscotto integra la strumentazione analogica con un display digitale a colori, per un totale controllo dello stato del trattore.